Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, spero che stiate tutti benissimo. Oggi parliamo di due verbi molto interessanti che sono raccomandare e consigliare, perché spesso vengono confusi, quindi oggi vediamo come usarli bene. Prima di iniziare, però, voglio dirvi che se state cercando una persona madrelingua con cui esercitarvi a parlare in italiano, potete provare a cercarla su italki, che, come alcuni di voi già sanno, è una piattaforma dove insegnanti e studenti possono trovarsi e cominciare a lavorare insieme. La cosa più forse utile di questa piattaforma è che potete studiare ed esercitarvi ovunque, voi vi troviate, quindi a casa, in ufficio, durante la pausa pranzo o in vacanza, se volete comunque mantenervi in esercizio con la lingua che state studiando, eccetera, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Nella descrizione del video vi lascio un link con il quale potrete ricevere 10 dollari da utilizzare per la vostra prima lezione. Iniziamo a vedere i due verbi raccomandare e consigliare, nello specifico vorrei analizzare queste due espressioni mi raccomando e ti consiglio. Queste sono due espressioni che hanno due significati ben precisi e ben distinti. Iniziamo da mi raccomando, lo usiamo come esclamazione, mi raccomando, punto esclamativo, oppure mi raccomando, virgola e poi l'ordine o il suggerimento. Quindi che cosa significa mi raccomando? Mi raccomando è un'espressione che esorta l'altra persona a fare qualcosa. Quindi non è propriamente un consiglio, perché se io dico mi raccomando vai al supermercato oggi, in inglese lo traduco con make sure you go to the supermarket today, va bene? Quindi mi raccomando si traduce con make sure you do something. Può essere usata come ho appena detto in una frase, quindi mi raccomando virgola e poi l'ordine o l'esortazione, oppure come esclamazione. Per esempio, se io dico vai al supermercato oggi, mi raccomando, quindi in questo caso metto un punto esclamativo alla fine. Quindi è molto diverso dal dare un consiglio. La confusione nasce nel momento in cui pensiamo alla frase in inglese e vogliamo tradurla in italiano. Per esempio, se qualcuno mi chiede where do you recommend eating in Rome, non posso usare il verbo raccomandare, devo usare il verbo consigliare, quindi questa domanda where do you recommend eating in Rome in italiano è dove consigli di mangiare a Roma, quindi non possiamo dire mi raccomando, cosa mi raccomando, cosa mi raccomandi, non possiamo usare il verbo raccomandare, dobbiamo usare il verbo consigliare, quindi dove mi consigli di mangiare? Ti consiglio di mangiare in questo ristorante, va bene? Quindi mi raccomando è usato in un determinato contesto molto specifico e in inglese lo traduciamo con make sure, puntini puntini, quindi make sure you do something, mentre consigliare è per dare un consiglio, quindi consigliare è tradotto con recommend, quindi I recommend you do this, ti consiglio di fare questo. Allora, ho voluto parlare di questo argomento oggi perché ultimamente molti studenti mi hanno fatto questa domanda e quindi ho notato una certa confusione nell'utilizzare queste due espressioni o questi due verbi, perciò ho pensato che fosse utile fare un video su questo argomento perché magari può essere utile risolvere questo dubbio anche per voi, va bene? Allora, spero quindi che questo video vi sia utile a capire la differenza tra i due verbi di raccomandare e consigliare in questo contesto, quindi per dare dei consigli o per dare degli ordini. Se avete delle domande, lasciatele nei commenti qui sotto. Grazie mille per aver guardato questo video, noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao! 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 Grazie